Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare la Silla perché è un onore per noi ricevere questo premio. Ringrazio anche la gente di Milano, ringraziare i nostri tifosi, i compagni e tutta la gente che lavorava insieme a noi perché abbiamo fatto una cosa importantissima e siamo molto orgogliosi di questo premio. Quindi, come ho detto, abbiamo un buon timore su questa strada, pensando a nostro obiettivo, pensando a sempre portare il intervimento possibile, siamo molto orgogliosi di questo premio. Grazie.